Vita da Street Photographer è un libro scritto e autoprodotto da Francesco Verolino. Francesco Verolino è uno street photographer napoletano, classe 1968. Dopo gli studi in economia e una carriera da consulente aziendale, ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione, la fotografia. Francesco è molto attivo su Instagram e anche su YouTube, dove condivide il suo approccio alla fotografia di strada e la sua visione. Con questo libro ha voluto raccontare la sua filosofia fotografica, dando spunti e suggerimenti agli amanti del genere. Per lui la street photography è l'arte di raccontare l'ordinario urbano in modo straordinario. Non lo considera un genere fotografico, ma un insieme di generi, come reportage, ritratto e fotografia urbana, ognuno interpretabile e da intendere in una chiave specifica, il racconto della società e del modo di vivere in un determinato luogo e tempo. Il libro è molto scorrevole e si legge piacevolmente. Leggendolo mi ha dato come la sensazione di stare parlando di fotografia con un amico. Il libro non parte infatti dagli aspetti tecnici, ma ci racconta il background di Francesco e il suo modo di vedere le cose. Il suo scopo è quello di condividere la sua esperienza e dare spunti di riflessione al lettore. Anche perché la street photography è un viaggio in cui dobbiamo sempre metterci in gioco e continuare a imparare. La fotografia richiede disciplina, studio ed esercizio, ma richiede anche curiosità e libertà. La libertà di interpretare la disciplina, di esprimersi ed essere creativi. Mi piace lo stile di Francesco e personalmente ho trovato molto interessanti i retroscena e le analisi di alcune sue fotografie proposte alla fine di ogni capitolo. Mi fa sempre piacere avere qualche dettaglio in più sulle fotografie, sapere cosa voleva comunicare l'autore, come si è mosso per ottenere quella composizione o come ha impostato la macchina fotografica per quello specifico scatto. Anche se il sottotitolo del libro è Manuale di street photography, tecnica, approccio e filosofie, nel libro non troverete risposte pronte e preconfezionate a domande tipo che macchina devo usare, come devo impostarle o altro. È un libro che più che dà risposte, aiuta a farsi delle domande, per capire quale sia la soluzione più adatta al proprio modo di fotografare e di vedere le cose. Francesco racconta il suo modo di procedere, le sue esperienze, perché ha fatto determinate scelte tecniche, le difficoltà che ha incontrato in varie situazioni e come le ha superate. Il racconto della sua vita da street photographer è ricco di spunti e suggerimenti che hanno l'obiettivo di far riflettere il lettore, per aiutarlo a farsi delle domande e sviluppare senso critico e consapevolezza. Una volta assimilata la tecnica, occorre infatti metterla in funzione di quello che si vuole dire. È importante riuscire a individuare il proprio genere di riferimento e sviluppare un proprio stile e un tema narrativo. Oggi la visione del fotografo è sempre più fondamentale per distinguersi. Tutti hanno una fotocamera in tasca e per emergere è importante avere un proprio stile e una propria voce riconoscibile. Deve infatti essere il fotografo a fotografare e non la macchina fotografica. Lo street photographer deve quindi essere un autore, non può essere solo un fotografo. Deve saper raccontare. Oltre alle capacità di composizione, gestione della luce e del colore, deve avere anche delle buone doti di narrazione. In sintesi, non basta saper fotografare, bisogna avere anche qualcosa da dire.